Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Un coraggioso cacciatore di mammut finisce coinvolto in una storia che lo porterà faccia a faccia con la civiltà nascente. Una civiltà un po' diversa da quella raccontata sui libri di storia. Questa è la storia in estrema sintesi di 10.000 a.C., film epico, non nel senso che è stupendo, ma nel senso di genere epico, realizzato da Roland Emmerich nel 2008. In questo nuovo video della rubrica Cinema Lore esamineremo gli aspetti più intriganti di 10.000 a.C., dalle creature presenti passando per le teorie a cui si è ispirato il regista. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social. Basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Partiamo dalla trama del film. Nell'anno 10.000 a.C. la tribù degli Yagal vive ancora secondo la tradizione, ossia cacciando le creature che chiamano Manak. Ossia cacciando le creature che chiamano Manak. Si tratta dei grandi mammut lanosi. Tuttavia gli Yagal sono consapevoli che i tempi stanno cambiando. Di mammut ce ne sono sempre meno. E soprattutto è comparso un popolo di predoni, che loro chiamano demoni a quattro zampe, degli uomini che hanno addomesticato i cavalli. Il protagonista del film è il cacciatore di nome Dilè. Dilè si innamora della bella Evolet. I due sono destinati a sposarsi, a guidare gli Yagal, secondo una profezia. Ad ogni modo, i demoni a quattro zampe hanno piani diversi, visto che irrompono nel villaggio degli Yagal, rappendo Evolet e altre persone. Dilè, insieme ai pochi cacciatori Yagal superstiti, si mette sulle tracce di Evolet e delle altre persone rapite. Durante il viaggio si imbattono in alcuni grandi uccelli predatori, facenti parte della celebre famiglia degli uccelli del terrore. Poi ci torniamo. Dilè, dopo essere finito in una trappola scavata nel terreno, si imbatte anche in uno smilodonte. Anch'esso rimasto bloccato. Dilè aiuta il felino a liberarsi, confidando che l'animale avrebbe capito le buone intenzioni dell'uomo. Cosa che poi effettivamente accade. Dilè e gli altri cacciatori proseguono nel loro viaggio, raggiungendo un'area pianeggiante dove vive il popolo dei Naku, un popolo dedito all'agricoltura. Il nostro protagonista riesce a stringere un'alleanza con i Naku, grazie al fatto di aver domato il sopracitato smilodonte. E scopre la verità. I demoni a quattro zampe rapiscono sia i Naku che gli Yagal, per farli poi lavorare come schiavi presso una civiltà più evoluta. Questa civiltà, chiaramente ispirata all'antico Egitto, erige grandi piramidi, sfruttando sia gli schiavi umani che i mammut, usati come bestie da soma per spostare gli immensi blocchi. A governare questa civiltà è una misteriosa figura nota come Onnipotente, che viene considerata una sorta di dio sceso in terra. I demoni a cavallo sono appunto al servizio di questo Onnipotente. Di lei, i Naku e i cacciatori preparano una rivolta per rovesciare il dominio dell'Onnipotente. Prima liberano i mammut, che seminano il caos ovunque, scappando a destra e a sinistra. Poi è il turno degli schiavi, che, impugnando le armi, combattono contro le forze dell'Onnipotente. Di lei uccide il falso dio, che si rivela appunto un comune mortale. Fatto ciò, si riunisce all'amata Evolet. Sulla via del ritorno a casa, di lei riceve alcuni semi dal capo dei Naku. L'era dei cacciatori di mammut è finita, visto che anche gli Agal si convertono con successo all'agricoltura, come ci mostra il finale del film. Segnalo che esiste anche un finale, diciamo, espanso di 10.000 a.C., che menziona la civiltà delle piramidi, la quale, dopo la morte dell'Onnipotente, è caduta nell'oblio, venendo appunto dimenticata. Insomma, questo 10.000 a.C. è un mix un po' naif di pre-storia e storia all'insegna della fantasia. Iniziamo ad analizzare le creature che appaiono nel film, per poi parlare delle civiltà. Gli animali che più vediamo durante il film sono ovviamente i mammut lanosi. I mammut erano ancora vivi e vegeti nel 10.000 a.C.? Sì, lo erano, visto che si estinsero attorno a 5.000 anni fa, sopravvivendo in zone remote come l'isola di Wrangel. I nostri antenati si dedicarono per secoli alla caccia al mammut, utilizzando varie tecniche. Si ipotizza che scavassero grandi buche nel terreno, dove bloccare il mammut, oppure che spingessero le prede verso un dirupo, facendo fare il grosso del lavoro alla gravità. Ovviamente i mammut non vennero usati per costruire le piramidi, su questo poi ci torniamo, anche se quando vennero edificate le grandi piramidi di Giza, forse esistevano ancora delle piccole comunità di mammut. Insomma, almeno furono coevi. In 10.000 a.C., come detto in precedenza, compaiono anche i temibili uccelli del terrore, e qui abbiamo un grosso problema di date. Questa famiglia di possenti predatori bipedi vissa in Sud America nel corso del Cenozoico, in un arco temporale che va dai 62 ai 2 milioni di anni fa, altro che 10.000 a.C., ecco. Viene ormai ritenuto improbabile che gli esseri umani abbiano mai incontrato queste creature in generale. Inoltre, nel film, gli uccelli del terrore presentano dimensioni esagerate. Tra i più noti membri della famiglia degli uccelli del terrore troviamo il fororaco, che visse nell'attuale Patagonia e poteva superare i due metri d'altezza. Il fororaco era uno dei predatori alfa del suo habitat. Nella sintesi della trama ho menzionato anche lo smilodonte, che, insieme al mammut, è senza ombra di dubbio l'animale più famoso della megafauna del Pleistocene. Le tigri dei denti a sciabola vissero in Sud America a partire da 2,5 milioni di anni fa, fino a circa 10.000 anni fa. Qui almeno le date tornano. Anche nel caso dello smilodonte, le dimensioni nel film sono un po' esagerate. In tutto questo una domanda potrebbe sorgere spontanea. Ma dove diamine è ambientato questo 10.000 a.C.? Abbiamo animali del Sud America, una civiltà simile egizia, tribù di agricoltori dalla pelle scura, un bel mucchio di informazioni difficili da mettere insieme. Online ho trovato che gli Yaghal vivrebbero sui Monti Urali, la grande catena montuosa che separa la Russia europea da quella asiatica. Direi che la risposta migliore alla domanda è che 10.000 a.C. è ambientato nella fantasia di Emmerich. E a proposito di Emmerich e della sua fantasia, dedichiamo due parole alla civiltà delle piramidi. Come molti di voi sapranno, da decenni circolano delle teorie alternative sullo sviluppo dell'umanità. Secondo alcuni autori, la storia come la conosciamo andrebbe riscritta, visto che in un passato remoto sarebbe esistita una grande civiltà evoluta, da cui deriverebbero poi le civiltà che studiamo a scuola. Egizi, Sumeri, Maya, eccetera. Alcuni ipotizzano che questa civiltà perduta avesse addirittura origini aliene. Emmerich è sempre stato appassionato di questi temi. Non a caso uno dei suoi più grandi successi è Stargate, un film che immagina l'esistenza di un'evoluta civiltà aliena ispirata all'antico Egitto e che avrebbe visitato la nostra terra in un passato lontano. In 10.000 a.C. troviamo il misterioso Onnipotente, il quale, mostrandosi come un dio, ha soggiogato vari popoli, avviando poi la costruzione delle montagne sacre, ossia le piramidi. L'Onnipotente è un essere umano? Oppure un alieno? Nel film viene fatto intuire che lui e pochi altri della sua stirpe giunsero da lontano, forse addirittura in volo. L'Onnipotente non ci viene mai mostrato chiaramente, visto che è sempre avvolto in alcuni drappi che ne celano la figura. In generale il suo aspetto ricorda quello di un essere umano piuttosto vecchio e dalle lunghe unghie, quindi propendo per l'ipotesi che l'Onnipotente sia uno degli ultimi superstiti di un'evoluta civiltà. Una sorta di Atlantide che, così come accade nel racconto del filosofo Platone, è andata incontro alla sua fine. Ben più storica è invece la contrapposizione tra le ultime comunità di cacciatori raccoglitori e le prime dedite all'allevamento e all'agricoltura. L'agricoltura e l'allevamento sono stati elementi rivoluzionari nella storia della nostra specie, che da nomade o seminomade è divenuta stanziale. Ciò ha permesso poi l'evoluzione della civiltà come la conosciamo, ossia con una società stratificata e sempre più evoluta. Alcuni popoli e gruppi continuarono a vivere come cacciatori e raccoglitori anche dopo la diffusione dell'agricoltura, arrivando fino ai giorni nostri e conservando tale stile di vita. In sintesi, che cosa possiamo dire di questo 10.000 a.C. di Roland Emmerich? Direi che si tratta di un film che, seppur offrendo qualche spunto tematico interessante e dei buoni effetti speciali, per il resto è tutto sommato dimenticabile. La storia che racconta non è malvagia, ma manca di appeal. Alla fine ti restano in mente solo le scene con la computer grafica, come quella dei mammut che trascilano i blocchi sulle piramidi. Ad ogni modo, se siete appassionati di preistoria o anche di storia alternativa, dategli una possibilità. Segnalo che 10.000 a.C. è attualmente disponibile su Netflix. Che dire ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questa videoanalisi, quindi non mi resta che invitarvi a lasciare un mi piace al video, ad iscrivervi al canale, perché no ad attivare la campanella. Se volete supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Ribadisco il mio suggerimento di seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!